Ben trovati ragazzi, ben trovati a tutti voi, buon pomeriggio a tutti voi, io sono Manuel, questo è il bar del calcio. Cari amici, benvenuti a tutti voi, vi rubo dieci secondi solo per ricordarvi che è in vendita il mio ultimo libro, la mia ultima opera, Fuggire per rinascere, chi è interessato all'acquisto di questo libro è facilissimo, c'è una copertura nazionale di circa il 90%, lo trovate anche in librerie minori, ma il posto più veloce e più rapido per acquistarlo è Amazon, lo store della Mondatori, lo store della Fertrinelli, oppure in alternativa per scoprire tutte le altre modalità di vendita vi basta andare su Google, digitare Fuggire per rinascere di Manuel Manconi e vi direrà fuori tutte le opzioni di acquisto per questo libro. Chiaramente ragazzi, chi lo compra mi faccia sapere cosa ne pensa, perché per me le recensioni e i vostri giudizi sono sempre molto importanti. Un saluto a tutti, ciao! Ci sono momenti in cui, si dice sempre che arrivano i momenti in cui ti togli i sassolini dalle scarpe, scusatemi perché il tempo è prezioso alleato, non mi piace ragionare in questo modo, e ce l'ho con quelli che dieci giorni fa, non più di dieci giorni fa, mi prendevano per scemo, per deficiente, le solite offese di bassa taratura che identificano le persone, falla finita, parli solo te che andrea, dici una marea di stronzate, di qua, di qua, e qua, beh, i fatti, amici miei che mi avete tanto offeso nei giorni passati, i fatti mi stanno dando ragione, la ragione è dei fessi, sono d'accordo con voi, però prima te sta critica uno, cioè io non dovete pensare che Manuel si mette davanti al telefono a riprendersi, a fare video e a raccontare, oggi voglio inventarmi una stronzata, oggi voglio inventarmi Candreva alla Lazio, ecco no, non è così, io ripeto ancora una volta che ho la fortuna di avere amici che fanno il lavoro di giornalista e lavorano per la Lazio, cioè stanno dietro dal mondo Lazio che quando è possibile ci si scambia opinioni e ti danno la notizia, questo è quello che è accaduto due sabati fa e ragazzi fui il primo, sono stato il primo in assoluto a parlare di Candreva alla Lazio, non è perché voglio prendermi un merito, perché essere il primo vuol dire anche essere predisposti a prendere parolacce e insulti come mi è successo, però, però, credo sia giusto, sia giusto sottolineare determinate cose, ok? Detto ciò, Candreva non ci serve, Candreva magari viene, questi sono tutti i pensieri che la gente dice, Candreva di qua, Candreva di là, ragioniamo, ragioniamo, allora, situazione Candreva, vi spiego quello che sta accadendo nella Lazio, Sarri non vuole Candreva, ok? Sarri ha chiesto un'ala in più, perché c'è Pedro che è soggetto a tanti infortuni, perché ci sta Felipe Anderson, del quale poi parleremo in un altro video, ci sta Felipe Anderson che quest'anno spesso ha dei vuoti, delle amnesie clamorose, perché magari distratto da cose sue personali legate al suo prossimo contratto, a quella che potrebbe essere la sua prossima squadra, e ragioniamo, Sarri ha chiesto un'ala in più, c'è Zaccagni, che quest'anno ragazzi è incredibile, gli infortuni che sta collezionando Zaccagni, c'è il Poro Isaksen, basta, è finito, ok? Quindi Sarri ha detto, per concludere questa stagione, a gennaio portatemi un'ala in più, io voglio Rafa Silva, esterno del Benfica per i pochi che non lo conoscono, che gioca con nonchalance sia a destra che a sinistra, e guarda caso sono gli stessi e identici caratteristiche di Brian Gill, del quale vi ho parlato ieri, sul quale ho conferme tra l'altro. Allora, io voglio Rafa Silva, cioè per Sarri il post Felipe Anderson, il post Pedro si chiama Rafa Silva. Rafa Silva, contratto e scadenza 2024, giugno 2024. Dal primo febbraio Rafa Silva è libero di firmare ed accordarsi con un'altra squadra. se lo vuoi prendere, questo è quello che la gente non capisce, se lo vuoi prendere a gennaio, che Sarri gli serve subito un'ala, un'ala, perché non dico Rafa Silva, un'ala, se Rafa Silva lo vuoi prendere a gennaio, il Benfica vuole i soldi, che può essere un milione, due milioni, tre milioni, quattro milioni, cinque milioni, che la Lazio non ti dà. È inutile stare a fare troppi giri dei parole. La Lazio non te li dà, perché la Lazio ha un suo credo, non spende soldi per giocatori in regime desvincolo, li prende gratis. ecco che subentra Fabiani, che dice? Mauri, Rafa Silva ci lavoriamo da febbraio, ma a febbraio il mercato in Italia chiude, il mercato in Italia a febbraio chiude, diamo la priorità all'ala che ti serve urgentemente. Proviamo a prendere Candreva con il quale ho già un accordo verbale. Candreva avrebbe dato già l'ok al trasferimento alla Lazio, questa cosa ve l'ho già detta dieci giorni fa se non di più, ok? Candreva firmerebbe un contratto di sei mesi e farebbe nel ruolo di ala il traghettatore fino all'approdo nel prossimo luglio di Rafa Silva. Capito qual è l'incastro che a molti sfugge? Questo è il discorso. Non bisogna di fare ragionamenti insensati, dal mio modesto punto di vista, all'interno dei quali molti dicono o scrivono, ma porco Giuda invece di prende un vecchio di 37 anni come Candreva, diamo se Rafa Silva perché è quello che ci serve. Ragazzi, lo sanno pure i sassi che è Rafa Silva il più funzionale alla Lazio. Anche perché ci puoi fare un minimo di progettualità, due o tre anni di contratto. Ma che c'è lo dovete di voi? Fatemi capire, lo dovete di voi? Se adesso apre il finestrino e lo chiedo al marciapiede qua fuori, me lo dice pure lui. Cerchiamo di entrare nella logica del calcio mercato? Se cerchi un giocatore di qualità, seppur 37enne quest'anno ti sta dimostrando di essere completamente pienamente integro, Candreva è perfetto. Poi l'estate ci si saluta, grazie Antonio ci ha dato una grande mano o paradossalmente magari rimane come quinto ad esterno d'attacco, che ne sai? Questo è il discorso. Quindi prima di sentenziare e di criticare, ragioniamoci un attimo. Non sto dire ragionateci, ragioniamoci un attimo tutti noi del mondo Lazio. Poi, Candreva è una trattativa per niente facile, perché la Salernitana si aggrappa a Candreva. Ragazzi, perché ho detto che Candreva-Lazio, ve l'ho detto due settimane fa, ricordatevi bene in quella live del sabato ora di pranzo, vi ho detto che Candreva-Lazio si sarebbe forse fatto all'ultime battute di calcio mercato, perché? Perché se la Salernitana perde le ultime due partite di campionato in questo mese di gennaio, è condannata, è condannata, ok? Se è condannata a quel punto magari la Salernitana concede a Candreva un via libera per andare alla Lazio. Questo è il discorso. Ma ci vuole tanto a capirlo? Vi posso dire che la Lazio si sta muovendo su altri prospetti, su altri prospetti assolutamente di ripiego alla Candreva e non prendete male questa parola che uso così, o anche come prospetti sul quale puntare pesantemente come nuovo per costruire un nuovo ciclo. Brian Gill è uno di questi, dall'Inghilterra mi dicono che la Lazio c'è su Brian Gill, c'è, perché è un nome che ha fatto Sarri, che vuole Sarri, che io adoro, sono folle per Brian Gill, ok? Ecco, cerchiamo solamente di capire quello che c'è, di addentrarci in quelle che sono le dinamiche del calciomercato, sennò è inutile stare a criticare subito, a sparare, a fare. Ecco, e chiudo questo mio video così come l'ho cominciato. Che voi ci crediate o meno, io le stronzate non ve le racconto, ok? Rischio di fare figuracce, sì, ma io quando una mia fonte mi dà una notizia, io la dico, stop, punto, io la dico, poi se si verifica bene, se non si verifica faccia la figuraccia, ma è un prezzo da pagare, perché altrimenti se uno ci mette la faccia solamente per farsi bello e crogiolarsi, è così è troppo facile, è così è davvero troppo facile. Ecco, chiedetevi perché tanti non azzardano a parlare di calciomercato, perché non vogliono fare figure di cacca, perché oggi nel calciomercato quello che dico oggi non vale domani. Ecco, io ci metto la faccia anche andando incontro a brutte figure, non ci sono problemi, sto qua, sto fatto così, non ho nulla da rimproverarmi, sapete perché? Perché che voi ci crediate o meno non vi prendo in giro, se dico una cosa è perché è quella, poi sta a voi credermi o meno. Vi mando un abbraccio ragazzi, un abbraccio forte, 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 forte. Ciao a tutti.